Ciao ragazzi, sono Mattia RockGod e ben ritrovati nel mio canale. Allora, avevo promesso che questa settimana non sarebbe uscito solo un video ma ben due, questo è il secondo, e vi avevo menzionato che avremmo parlato di videogiochi, però in maniera un po' più ufficiale, perché l'argomento di cui voglio parlarvi oggi è un argomento di cui ho parlato solo in maniera ufficiosa nei commenti sotto a un video. Il video in questione è il secondo episodio del gameplay di 10 dates. Andatevi a leggere i commenti sotto a quel video e avrete già intuito di cosa andrò a parlarvi oggi. Dopo aver passato tutto marzo 2024 e i primissimi giorni di aprile 2024, ho deciso di rifarmi Steam. Ho aperto l'account proprio nella metà di aprile, ho messo tutta la protezione in due fattori, ho cambiato addirittura il nome utente, tant'è che ho dovuto fare anche una mail nuova, nel senso che ho cambiato anche dominio mail. Prima col vecchio account avevo Outlook, che uso tuttora per l'Xbox, adesso ho tutto separato. Outlook rimane per Xbox, per Steam uso la mail di Yahoo, quindi adesso io non ho più due client mail da gestire, una è Gmail che uso per lavoro, YouTube e altro. Ho Outlook anche per l'Xbox da tempo in memore, adesso ho pure la mail di Yahoo, quindi ho ben tre app di mail da gestire. Niente, ho deciso di riaprire Steam perché volevo ributtarmi nel gioco su PC. Ovviamente non andrò a recuperare la stessa identica libreria che avevo sull'account vecchio, perché ormai quello è storia antica, non esiste neanche più, ma ho intenzione di fare comunque un recupero, seppur parziale, di alcuni dei giochi che avevo nel vecchio account, più l'introduzione di giochi completamente nuovi. Tant'è che ho una wishlist quasi tutta di DLC per un gioco, ma ci sono anche dei giochi diciamo nuovi, o anche di giochi che avevo precedentemente. Avrete una lista più o meno completa dei giochi che appunto ho intenzione di recuperare, o comunque quando avrò una libreria un pochino più folta di quella che ho ora, perché ho solo dieci titoli e voglio arrivare almeno una ventina, ecco magari quando arriva una ventina forse vi condividerò appunto la lista aggiornamento dopo aggiornamento, perché non ho intenzione di comprare, ne so, un gioco o due e di farci un video. Magari ci facciamo un video con tipo aggiornamento in libreria e giorno, quindi la data di quando faccio il video sostanzialmente. Poi, altra roba, non chiedetemi lo Steam ID, perché il mio nuovo account Steam sarà una cosa molto più privata, tant'è che addirittura ho messo il profilo privato, quindi nessuno mi può chiedere l'amicizia, nessuno mi può rompere i coglioni. Tant'è che addirittura quando sblocco obiettivi o metto in wishlist un prodotto, o quando lo levo dalla wishlist, nel feed della mia attività non compare niente, in quanto ho messo tutto privato. Quindi, per esempio, inizialmente anche i giochi che possedevo sull'account nuovo mettevo l'occhiolino come per dire, l'hai contrassegnato come privato, nessuno può vedere cosa stai facendo in questo gioco, né gli obiettivi sbloccati né quante ore hai giocato. Invece poi alla fine ho detto, no, mi sembra esagerato così, sembra che nessuno mi debba scoprire, quindi adesso i giochi comunque sono visibili, ma l'account rimane comunque privato. E diciamo che tutta l'attività è circoscritta solo a me, ok? Quindi ve ne sto parlando appunto perché potreste vedere a breve nuovamente delle recensioni su giochi per PC, o comunque magari potreste vedere dei video dove vi parlo di giochi per PC che ho comprato, ok? Quindi ancora per il momento la mia attuale libreria non ve la vado a rivelare, magari aspettiamo appunto di arrivare a 20 titoli, perché adesso sono solo la metà. In buona parte recuperi, ma tra un po' arriveranno anche delle cose nuove, quindi sempre tutte quanto ovviamente conformi ai requisiti del mio PC, che è sempre lo stesso che ho da 8 anni a questa parte. L'anno prossimo dovrò cambiarlo per forza, perché metti che comunque mi funziona sempre bene fino all'anno prossimo, Windows 10 non sarà più supportato da metà ottobre 2025, e per evitare di rimanere esposto a virus o problemi vari cambierò PC. Quindi ora dell'anno prossimo di soldi ne avrò accumulati tra lavoro e extra, quindi l'anno prossimo il PC per forza ci deve essere. Intanto però a Natale di quest'anno l'Xbox Series non me la leve nessuno, quindi ho intenzione di prenderla l'Xbox Series, perché ormai sono anni con la One, direi che è giunto il momento di passare alla generazione successiva. Anche per quella ci saranno dei video appositi, aggiornamenti di libreria, giochi nuovi, giochi purtroppo solo compatibili con la Series, che quando avrò la Series potrò finalmente permettermi, quindi ci saranno tante novità, ok? Riguardo al gaming. Su PC comunque vi parlerò in maniera un pochino più frastagliata, quindi piano piano ne saprete di più. Intanto questo video era per dire che sono ancora su Steam, cioè sono tornato su Steam, ma con una forma un pochino più personale, quindi non vi dico lo Steam ID perché non mi va di condividerlo. Già sapete la mia Gamertag su Xbox, quindi vi basti avanzi quella. Comunque per la libreria Steam ve ne parlerò poco per volta, ok? Poi magari se riesco faccio anche delle recensioni, quindi niente. Era per farvi sapere che sono tornato su Steam, tutto qua. E basta, non ho altro da aggiungere. Noi ci vediamo alla prossima volta, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi video e aggiornamenti, anche i link in descrizione mi raccomando dateci un'occhiata. E niente, noi ci vediamo a un prossimo video. Si spera non più un video al mese o due al mese, ma magari un po' più frequentemente. Dipende sempre tutto dal lavoro, ragazzi. Purtroppo dovete farci l'abitudine. Ormai da non a questa parte lavoro, sta andando anche molto bene il lavoro ultimamente, quindi portate pazienza. Appena trovo il tempo, faccio qualche video, ok? Comunque non dimenticate di guardare anche il feed della community sempre sul mio canale, perché è possibile che pubblichi anche degli aggiornamenti testuali anche lì per tenervi aggiornati appunto sui prossimi video o su cose appunto che verranno in futuro, ok? Oppure magari sull'impossibilità di registrare, magari perché il lavoro è troppo in questo momento. Comunque buttate un occhio anche lì ogni tanto, perché non me l'hanno attivata per niente quella schermata lì, ok? Noi ci vediamo alla prossima, un abbraccio da Matteo God e a presto!